La conferenza stampa di domenica in, ciao, non potevo non cominciarla ricordando Luca perché 31 anni fa abbiamo cominciato la mia prima domenica in con lui, solo per lui, è lui che mi ha voluto, per cui Ragazzi, non... Chi era Luca? A chi non l'ha conosciuto, ma a chi non ha avuto modo di viverlo televisivo? Ma guarda adesso non lo voglio, ti chiedo scusa, ho detto tutto, veramente. Oggi siamo qui per lui, per Luca. Grazie mille. Sì, Caterina, non se la sente, viene dalla conferenza di domenica in, poi capire... Fantastica. Una qualità che aveva Luca? Un signore. Anche con il pubblico? Un vero signore. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.